La Commissione farà quanto necessario, quanto prima possibile. C'è un grave ritardo digitale in Europa rispetto allo sviluppo delle grandi economie mondiali. Bene perciò che si imbocchi la strada della creazione di un mercato unico per offrire alle imprese tradizionali, alle start-up e ai cittadini quella facilità di servizi accessibili e innovativi che oggi non c'è, per creare un mercato trasfrontaliero, senza geoblocking ingiustificati e senza ostacoli o barriere, ormai inammissibili e dannose. Accanto all'accessibilità è importante l'innovazione dei servizi. Occorre un vero coordinamento comunitario, penso allo spettro, signor Commissario, sostenendo i produttori di ICT, puntando su interoperabilità e standardizzazione. E occorre una ricerca che sappia sfruttare, anche in termini di sviluppo e di applicazione industriale, tutte le potenzialità di crescita, cosa che non abbiamo fatto in questi anni. Ma la strategia della Commissione va rafforzata in termini di visione, va alzata all'asticella degli obiettivi, soprattutto per prepararsi al confronto con gli Stati membri che sono ottusamente gelosi dei loro mercati interni, come stiamo amaramente constatando del trilogo sul mercato delle telecomunicazioni, che è fermo e rischia di far mancare una base importante per questa nuova strategia. Onorevole Krasnodewski Grazie, Presidente. L'obiettivo dichiarato del mercato unico digitale è lo sfruttamento pieno del potenziale...